Ok, ciao ragazzi, mi dispiace che ci sia stato un fraintendimento ieri sul video che ho postato dell'unboxing ma io, come ho scritto nei commenti, era un unboxing e una prima impressione sul telefono e l'attivazione che è quella che faccio sempre quando mi arriva un telefono e faccio l'unboxing appunto su A40 Oggi questa è una vera e propria recensione sul dispositivo Più che una vera e propria recensione sono i punti di forza, secondo me, di questo telefono adesso che l'ho usato un po' e i punti a sfavore Ci sono delle cose che non mi piacciono, ci sono delle cose che forse non riesco a trovare io A questo punto passiamo al video e vi spiego che cosa mi piace e cosa non mi piace Ok, come dicevo nel video precedente, una cosa che ho trovato veramente complicata e tuttora non sono riuscito si benché ieri sera ho provato più volte a fare su Samsung Galaxy A40 a inserire la slot SIM per qualche strano motivo, magari è questa slot che però comunque è una Kingston da 64 giga nuova Ve lo faccio vedere perché dopo sembra che io sto dicendo una cosa Questo è un particolare che non mi è piaciuto di questo telefono Adesso magari la metto e entra perfettamente Come vedete lascia un po' di spessore, non so come spiegarvelo Rimane leggermente alzata e quando cerchi di infilare, l'ho provato con altre SD Quando cerchi di mettere il carrellino si blocca, si inchioda completamente Oh, non entra, non entra proprio Vi dico la verità, questa cosa mi lascia abbastanza perplesso Piuttosto che fare danni preferisco non metterle SD È vero che il telefono è da 64 giga E ha la sua buona memoria di archiviazione di base Però mi sarebbe piaciuto poterla mettere Perché appunto spesso alcuni video li faccio con il telefono Questa cosa mi fa mettere un ditto abbassato su Galaxy A40 Altro punto a sfavore che io, effettivamente è un po' di anni che non uso un Galaxy E quindi può darsi che sia io che sbagli qualcosa Quindi non lo do ancora come punto a sfavore Ma semplicemente come ignoranza mia E adesso magari voi nei commenti mi scrivete come fare Io, i miei telefoni Android ma anche l'iPhone Sono tutti impostati con le gesture Quindi apri e chiudi le impostazioni con un gesto Qui non riesco a trovare il modo per poter Appunto gestire la cosa così Mi fa abbastanza arrabbiare questa cosa Però magari appunto, ripeto Non voglio dargli un punto negativo Ma perché solo perché magari sto proprio sbagliando io Punti a favore Gli do sicuramente lo schermo OLED Amoled, pardon Che come potete vedere Entrambi gli stessi colori La luminosità è decisamente migliore E più apprezzabile su un Samsung Ma questo lo sapevamo Questo è un Redmi Note 7 E ha un LCD Quindi un IPS retroilluminato Questo è uno schermo OLED E la qualità dello schermo si vede tantissimo La cosa che gli do come punto a sfavore sull'OLED È che un telefono che costa 260 euro 240 euro al momento E se vi interessa lo trovate in descrizione nel video Che un telefono ha uno schermo OLED E al momento il mio fornitore È vero che un telefono è nuovo Però al momento il mio fornitore Sta vendendo questo ricambio a 100 euro Quindi gli do il su per l'OLED Il giù per il prezzo del pezzo di ricambio Parla di un service pack Samsung logicamente Metto in su metto quindi un apprezzamento positivo Per la fotocamera che effettivamente è molto molto buona E mi interesserà fare una bella video Con una bella video comparazione con appunto Redmi Note 7 finché ce l'ho Perché poi dopo andrà in vendita Anzi è già venduto a dire il vero E vedere appunto la qualità delle fotografie Sicuramente viste su un OLED sarà una cosa diversa Ma viste in video poi vedremo anche come sarà Qui gli do un bel pollice in su Allora i 4 giga di RAM Chiaramente sono positivi Anche se lo trovo un po' Come vedete nell'apertura delle applicazioni Sono state chiuse tutte Un pochino lentino Oh magari è solo una mia impressione Ok Chiedo scusa per mea colpa Comunque per quello che ho detto ieri La parte dietro non è in vetro Ma è un policarbonato Lo sapevo anch'io Mi sono sbagliato a parlare Intendevo dire che non è un pezzo di plastica grezzo Allora partiamo col dire che comunque Samsung Galaxy A40 è uno smartphone Android Logicamente avanzato e completo sotto ogni punto di vista Con alcune eccellenze Esempio Dispone di una grande display da 5-9 pollici Che si può migliorare Questo Samsung A40 è un prodotto che va a competere Comunque con una fascia media E sulla stessa base di prezzo troviamo dei buoni dispositivi della Xiaomi e della Huawei Comunque la fotocamera è di 16 megapixel Più 5 Parliamo della fotocamera posteriore Ok E scatta foto di alta qualità con risoluzione di 4619 x 3464 pixel Quindi ottime Veramente ottime Sarà bello fare appunto una comparazione di fotocamera con Huawei Eh sì pardon Xiaomi Redmi Che è ne più Xiaomi appunto Redmi Note 7 Registra video appunto in 4K con la fotocamera posteriore Fotocamera frontale in full HD La risoluzione del 4K è di 2160 x 3840 pixel E lo spessore è di 7,9 mm Un altro particolare molto molto interessante è che la fotocamera frontale Fa fotografie da 25 megapixel Quindi un telefono abbastanza predisposto per i selfie Per gli amanti dei selfie questo può essere un ottimo telefono La batteria è interessante anche lei È da 3100 mAh Quindi una buona batteria Allora se andiamo anche a fare una proporzione qualità prezzo Samsung Galaxy A40 Si piazza in quella fascia dove troviamo al momento il Huawei P20 Lite Il Samsung A8 Il Galaxy A5 2017 Quindi un telefono un po' più bello da vedere rispetto a questi Un Galaxy Un LG G7 Oppure se andiamo su Xiaomi Andiamo con Redmi Note 7 Mi 8 Lite Redmi Note 6 Pro Comunque questi Forse questo se devo dirla tutta è quello con lo schermo migliore Comunque Detto questo finisco questa recensione Ci vediamo al prossimo video Spero di essere stato abbastanza esaudiente Se vi fa piacere iscrivetevi al canale Lasciate un like al video Scrivete nei commenti i vostri pensieri Ciao ragazzi al prossimo video